La decima entra nel vivo e lo fa con una partenza col botto per l'apertura alle visite turistiche della stagione 2023 di Villa Medici del Vascello a San Giovanni in Croce. Già nel primo weekend ci sono avvicendati diversi gruppi giunti da molte province del nord Italia per ammirare le bellezze architettoniche naturalistiche della villa e del suo parco accompagnati dalle guide dello staff dell'ufficio cultura del comune di San Giovanni in Croce che hanno saputo come sempre coinvolgere appassionare gli ospiti nei percorsi all'interno del complesso e adesso si vuole concedere il bis andando sempre in crescita se possibile compatibilmente col bel tempo che però certo non manca e la decima stagione di Villa Medici del Vascello ha ricordato il sindaco di San Giovanni Pierguido Asinari si è partiti nel 2014 con l'idea di dare un'identità anche dal punto di vista turistico al paese sapevamo che c'era molto lavoro da fare c'era da fare in un certo modo posso dire che ci siamo riusciti e non possiamo che essere orgogliosi di tutto questo le presenze numerose costanti attente dei visitatori i loro feedback perché c'è anche chi torna spesso e volentieri sono riconoscimenti che danno fiducia ed energia per continuare con le proposte che si estendono ben oltre le visite turistiche a tal proposito Asinari ricorda l'appuntamento del 19 marzo con le attività di bird watching per i bambini che chiudono il cosiddetto ciclo invernale iniziato lo scorso novembre dedicato espressamente alle fasce d'età più piccole in attesa delle nuove proposte primaverili ed estive loro rigervate tutte le informazioni peraltro sono sul sito web aggiornato di villa medici del vascello e sui canali social della villa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti